Noi facciamo una domanda e tu rispondi. La vita del magazziniere a 24 ore e a 365 giorni e anche 360 gradi? Cioè non perdiamo niente. Com'è la vita del magazziniere? E' squisita, prima di tutto. Quando si vince? Quando si perde o pareggia? Per me il magazziniere è buono sia quando si perde che quando si vince. È uguale. E poi sono orgoglioso che sono con i ragazzi, più di tutto per il capitano, perché il capitano è unico. Se mi trovo qua è per il capitano. Sono contentissimo di fare il magazziniere. Poi c'è il signor Ruffo. Un'altra domanda. Siccome si sono create un po' di polemiche, quando c'è la consegna del materiale, Allora, questa maglietta a chi va? Questa qua io la darei solo a un giocatore che è messo in bate con la menta, a gorgoglione. E questa la diamo a gorgoglione. Ma quando sono arrivate le tute, quando sono arrivati i giubbini, che cosa è successo? Sveliamo l'arcano. Tu che cosa hai chiesto? Ho chiesto la mia taglia. Il giubbino e la compresa. E poi cosa hai detto? Se eventualmente ti aspettava. Certo. E come Rit? Oh, ma tu non hai diviso, se no hai manno tutto a quello paese. Hai già fatto pure la rima, apposta. Quindi ti ha toccato? Certo. Certo, ma tocca sì. Perché se mi ha toccato, ti ha detto quello che succede. No, minacce no, minacce no. A tutto quello paese. Eh, vabbè, grazie a tutti quanti voi. Apposto.